Buonasera a tutti, siamo nell'auditorium di Palazzo Blu nell'ambito del Pisa Book Festival edizione 2021. Intanto grazie a tutti di essere intervenuti, vedo che siamo riusciti a entrare tutti in sala, ci scusiamo ancora per questa riduzione dello spazio dovuta ovviamente alle normative anti-covid in questa situazione emergenziale, è già molto poter essere qui di nuovo e ringrazio poi Costantino Dorazio di essere venuto qui con noi a Palazzo Blu dove una delle opere fiore all'occhiello del nostro museo è proprio l'Artemisia, la Clio, la musa della storia di Artemisia Gentileschi, una delle artiste eccellenti presentate appunto nel libro di Costantino Dorazio. Costantino Dorazio penso lo conosciate tutti, è un volto noto anche della televisione ma è anche uno storico dell'arte, è stato per vari anni curatore del macro, è tuttora in forza nel museo Pietro Canonica, è un piccolo museo della sorrintendenza capitolina all'interno di Villa Borghese a Roma ovviamente e poi Dorazio ha partecipato alla compilazione di moltissimi cataloghi d'arte, ha scritto dei libri che ci svelano i segreti di molti artisti famosi e anche dei luoghi d'arte, e poi cura una cosa anche interessante, un altro diciamo parentela che abbiamo trovato con il nostro museo è autore di Wikiradio su Rai 3 e su Rai Radio 3 e ho scoperto grazie tra l'altro a una britta di un collaboratore qui della Chinsica, che hai curato proprio il brano sui ciglio Federico Ioni, il famoso falsario semese, assolutamente sì, che ha riprodotto una copia di un'altra opera importantissima, quello non l'ho fatto per Wikiradio ma per vite che non sono la tua, che è un altro programma di Radio 3 effettivamente, che era un ciglio dedicato ai grandi falsari della storia, appunto forse non abbiamo avuto modo di fargli vedere il museo prima perché è arrivato all'ultimo tubo a causa di un imbroglio di ferrovia dello Stato, vabbè lasciamo stare, e poi tra l'altro segnalo per chi avesse voglia, io curo anche una rubrica su Rai News 24 dedicata all'arte e ho dedicato credo un paio, se non una sola puntata a Pisa proprio, naturalmente un volo d'uccello sulla città, alcune cose, devo tornare sicuramente con Rai News perché il patrimonio è straordinario, su Palazzo Blu, volentieri, molto molto volentieri, molto volentieri. Allora, ascoltiamo da lui le vite di queste donne, sono circa 70 se non sbaglio, collocate ciascuna nel suo ambito sociale e della sua epoca, però non suddivise in maniera scolastica le donne del Cinquecento, le donne del Seicento, ma con un epiteto, un aggettivo qualificativo che insomma ce le rende anche più facilmente memorabili e quindi si parte dalle pioniere che sono le prime donne sconosciute dell'antica Grecia fino alle silenziose, incredibilmente delle donne artiste che si formano nei monasteri che ai nostri occhi sono dei luoghi di segregazione per eccellenza e poi si passa appunto alle coraggiose di cui fa parte anche la nostra Artemisia e via dicendo. Lascio senz'altro la parola a Costantino Dorazio che ce ne illustra qualcuna. Grazie mille di essere venuti e grazie dell'invito. Allora sì, come è stato detto, questo è un libro che nasce un po' come una sfida perché di artiste donne non è vero che non si sia mai parlato, ci sono diversi libri dedicate a alcune artiste, ma la maggior parte sono monografie quasi sempre dedicate alle stesse, no? Frida Kahlo, appunto Artemisia Gentileschi di cui ci sono più romanzi o testi insomma lei dedicati, oppure testi che ne raccolgono due, tre, quattro, ecco. Invece l'obiettivo mio e della La Terza è stato in questo caso quello di cercare in qualche modo di fare una grande cavalcata, una lunga cavalcata che dall'antica Grecia arriva fino ai giorni nostri, ecco non proprio i giorni oggi perché mi sono state tagliate 50.000 battute da questo libro ma l'ho già ricollocata in un altro testo che uscirà prossimamente, però insomma comunque diciamo le ultime artiste di cui parlo sono quelle nate negli anni 50 e che ancora oggi sono vive e operano di alcune ne parleremo. Quindi in sostanza l'idea è quella di capire quale contributo le artiste abbiano dato all'evoluzione della storia dell'arte. Quindi non è un libro dedicato a figure esotiche, le donne che si sono permesse di fare le artiste, non è un libro dedicato a fenomeni... Lei poi dove lo manda questo video che sta facendo? Tutti in così molto vicino, scherzo. Non è un libro dedicato a fenomeni particolari, no, ma ad artiste che al pari dei loro colleghi di sesso maschile hanno avuto un ruolo fondamentale nelle varie rivoluzioni che la storia dell'arte ha vissuto nel corso della storia. E il libro parte, è partito questa ricerca, da una domanda che nel 1971 si è posta una storica dell'arte americana, si chiama Linda Nochlin ed è quella che forse prima di tutte nel secondo dopoguerra, diciamo nella seconda parte del novecento, seconda parte del novecento ha aperto un po' il dibattito sulla questione di genere nella storia dell'arte, che prima c'era stata relativamente. Insomma, a Linda Nochlin si chiede perché non sono mai esistite grandi artiste? Allora, ovviamente nella domanda c'è già una implicita risposta, cioè la domanda è una domanda sbagliata e Linda Nochlin lo sa che è posta male. Però effettivamente se ci pensate, anche voi adesso, no, se dovessimo pensare ai grandi capolavori della storia dell'arte, ci vengono in mente così, al volo, no, un po' sempre gli stessi, no, la Cappella Sistina, no, la Gioconda, il Cenaco, le Stanze di Raffaello, ma anche se andiamo all'estero, pensiamo ai fiamminghi, pensiamo agli impressionisti. Ecco, alla fine noi finiamo sempre su opere, grandi capolavori, realizzate da uomini. Perché questo? Beh, non è perché siamo tutti sessisti, no, non è questo il motivo. Il motivo è soprattutto legato al fatto che quelli che noi annoveriamo tra i grandi capolavori della storia dell'arte, che sono fondamentalmente poi opere pubbliche, no, grandi cicli affreschi o edifici straordinari, non sono mai stati accessibili alle artiste. Le artiste, almeno fino alla fine dell'Ottocento, sono state escluse dalle grandi committenze. E non tanto, o meglio, non deliberatamente per una questione di pregiudizio, perché appunto si era contro le donne, no. Pensate che uno dei motivi principali per cui le artiste sono state escluse dalle grandi committenze pubbliche, per esempio, fino al 1870, alle artiste, ma in realtà alle donne in generale, era preclusa la possibilità di trovarsi all'interno di una stanza con un uomo nudo davanti, che non fosse il marito. Allora, pensate a questa semplice condizione. Cosa ha portato alla conseguenza che le artiste non si sono potute formare nello studio del nudo dal vero? E se un artista non conosce l'anatomia dal vero, inevitabilmente viene considerato incompetente nella possibilità di realizzare un cenacolo, per esempio, anche se poi lo vedremo un cenacolo realizzato da una grande artista, o una grande scena mitologica, cioè la maggior parte di quelli che erano i soggetti richiesti dalle committenze religiose o secolari. Non sapete dipingere i fisici maschili? Non siete in grado, non meritate di accedere a queste committenze. Quindi vedete come in realtà nella storia dell'arte delle artiste si intrecciano una questione prettamente artistica, culturale, ma anche una questione sociale, che si è poi, come dire, in qualche modo aggravata quando ad essere i maggiori nemici delle artiste sono stati i loro colleghi maschi. E vi racconterò degli episodi. I nemici principali delle artiste sono stati gli artisti che le hanno ostacolate in tutti i modi, soprattutto quando hanno intuito che avevano un talento pericoloso per la loro carriera. Da dove parte questa storia, questa avventura? Quindi parte da un'epoca molto antica, perché curiosamente il primo ad aver nominato delle artiste è stato l'autore del primo libro di storia dell'arte che noi conosciamo, cioè Plinio. Plinio, nel libro 35 della Naturalis Historia, non solo descrive, racconta... ...che sono stati realizzati anche perché sono spesso nomi mitologici. Ma insomma, sicuramente però il tema delle alcune scultrici o pittrici già in Grecia e a Roma si era posto ed era stato sottolineato da Plinio. Queste artiste, quasi tutte, sono figlie di altri artisti, condizione che poi si perpetua anche nei secoli successivi. Poi, passata l'epoca romana, o comunque nella seconda parte dell'epoca romana, di artiste donne i documenti e le cronache non parlano più. Fino all'epoca, chiamiamola così, medievale inoltrata. Cioè i primi nomi di artiste riemergono nel XII secolo e in un contesto molto preciso che è quello della miniatura. In Italia, in Europa, esistono molte miniatrici. Non è detto che siano tutte... A meglio, queste miniatrici si formano all'interno di scriptorium che, anche qui, per colpa di Umberto Eco, forse, del nome della Rosa, o comunque per colpa di un senso comune, ogni volta che noi pensiamo all'escriptorium li collochiamo in un monastero maschile, dove lavorano gli amanuenzi. In realtà gli scrittorium esistevano anche nei monasteri femminili ed erano accessibili sia alle monache che dimostravano l'interesse di imparare questo mestiere, sia alle laiche. Tant'è che infatti Claricia, l'autrice di questo manoscritto, si firma, in un modo molto singolare come vedete, autoritraendosi non in abiti monacali. Vedete che non ha un velo. Quindi lei era una laica, questo è il suo nome, Claricia, ma dove colloca la sua firma? Se lo vedete si è autoritratta nella gambetta di questo capolettere a Q. Quasi nascosta nelle maglie, nell'interlinea. Contemporaneamente, sempre nel XII secolo, nel nord Europa, invece siamo in una zona germanica, Guda, anche lei si firma, io stasera vi parlo di alcune, ma di questi esempi ce ne sono decine, e anche nel libro ne parlo di altri, e lei si firma di nuovo nascondendosi nelle volute di un capolettere a D. Allora immaginate un volume, un conabolo più o meno di queste dimensioni, dimensioni, ecco, il suo ritratto è qua. Perché è molto interessante questo fatto, questo fenomeno? Perché nei colofon, che oggi nei cataloghi si trovano all'inizio, all'epoca si trovano alla fine dei testi, di solito i monaci emanuenzi si firmavano in un modo molto diverso. Vi faccio vedere un esempio. Ecco, lui si firma, Edwin, a tutta pagina. Cioè, questo è l'intera pagina, non nascondendosi in un capolettere, ma a tutta pagina, orgoglioso di saper gestire addirittura due pennini contemporaneamente, vedete, con la destra e con la sinistra. Cioè, giustamente, manifesta il grande orgoglio di aver concluso un'opera eccezionale, quella di miniare, di illuminare, come si diceva all'epoca, un intero testo. Le miniatrici, invece, quasi devono dissimulare il lavoro che hanno compiuto. Non c'è un obbligo, è un atteggiamento che è legato alla timidezza con la quale queste donne si trovano a presentarsi in un contesto professionale, come quello della miniatura, dominato, in termini di numeri, dagli uomini. Questo discorso, questa timidezza, questa, diciamo, non eccessiva esposizione di sé delle donne, nel tempo continua, in epoca medievale, e ad un certo punto trova uno stranissimo, o comunque imprevedibile, difensore, che è addirittura Boccaccio, perché Boccaccio, siamo ormai nella seconda metà del quattordicesimo secolo, negli anni 60 del 300, pubblica un testo che si chiama De Mulieribus Claris. La tradizione dei testi che raccontavano le vite dei grandi uomini, degli uomini illustri, per chi ha un po' di memoria di latino, il De Viris Illustribus, era una tradizione antica che appunto partiva addirittura dall'antica Grecia, e Boccaccio ne firma una sorta di parodia, per rendere ragione del ruolo delle donne nella storia, scrive il De Mulieribus Claris, in cui ci infila dentro un po' tutte, ci infila dentro persone realmente esistite, divinità, figure mitologiche, ma insomma comunque rende ragione del ruolo della donna nella storia, ed è una cosa abbastanza unica all'epoca. Nel capitolo dedicato alle artiste, ordina questa illustrazione, dove c'è una ragazza che si sta autoritrando allo specchio. Allora, sappiate che, e veramente di queste 70 tutte, ma anche di più, tutte le artiste si sono autoritratte. Tutte. Ancora oggi accade. Ma non si sono autoritratte per vanità. L'autoritratto è una delle risposte a quella condizione, diciamo, di difficoltà in cui si sono trovate nella storia, che vi ho raccontato prima. Cioè non potendo esercitarsi su una grande quantità di modelli maschili e femminili, hanno deciso che potessero partire dal loro volto per cominciare a studiare l'anatomia. Ed è per questo che gran parte appunto delle artiste ci hanno lasciato i loro autoritratti. Per esempio, all'inizio del Cinquecento, a metà del Cinquecento, a Firenze, abbiamo il ritratto di questa che è una delle prime artiste che effettivamente produce un lavoro, entra in competizione con quello dei propri colleghi maschi, Plautilla Nelli, una suora, suor Plautilla, la badessa del convento delle Domenicane che affacciava in piazza San Marco esattamente come quello dei Domenicani con le opere, sono passate di Pisa, Firenze vi sarà familiare, credo, spero, con appunto gli affreschi di Beato Angelico. Allievo comunque erede di Beato Angelico fu Fra Bartolomeo e lei, Plautilla, entra in possesso di alcuni disegni di Fra Bartolomeo, si esercita su quelli, impara a disegnare, a dipingere su quei disegni, anche perché pur essendo badessa non aveva la possibilità di circolare per la città con grandissima libertà. Forte di questa formazione da autodidatta, Plautilla fonda una bottega all'interno del convento, bottega aperta alle sue consorelle che collaborano principalmente nella realizzazione di dipinti per arredare altri monasteri o chiese che ordinano queste opere. Considerate che nei monasteri c'era già una sorta di attività creativa, era quella del ricamo per esempio, i tessuti per gli altari, le stole, insomma ma erano tutte opere, come dire, operazioni in qualche modo facilmente confinabili nel mondo femminile. Mai nessuno, prima di Plautilla, aveva aperto una bottega di quadri e non quadretti ma anche grandi come questo cenacolo per appunto arredare altri luoghi religiosi. Vasari, a cui il titolo del mio libro fa un po' eco, no? Vite di artisti eccellenti è un po', insomma, molto modestamente, il teo, no? Riecheggia un po' il titolo del grande saggio di Vasari. Vite di eccellentissimi artisti, architettori, bla bla bla. Allora, perché vuole evocare quello? Non perché io sono impazzito, ma perché in qualche modo Vasari ha una grandissima responsabilità in questo ostracismo delle artiste nella storia dell'arte. Su 178 vite che Vasari ha scritto nella seconda edizione del suo volume, una sola è dedicata ad un artista, donna. Non è Plautilla, anche se in questa vita di un'artista di cui tra poco vi parlerò, si parla anche di Plautilla, si parla anche di Sofonis Banguissola e di lei si dice che le opere di Plautilla erano talmente apprezzate da essere ordinate anche dalle grandi famiglie fiorentine. E se ci pensate questo è un fatto assolutamente incredibile perché le opere di Plautilla superano le mure del convento ed entrano nelle case dove già si trovavano i quadri di Michelangelo, di Raffaello, di magari di Leonardo, di Pontormo, di Rosso Fiorentino. Cioè entra fisicamente nel territorio che mai nessuno prima, donna, aveva tentato appunto. E lo fa anche suo malgrado, nel senso che non è che l'abbia voluto lei, ma la fama delle sue opere è talmente grande da riuscire veramente a giocare sullo stesso terreno dei suoi colleghi. Le opere di Plautilla però hanno una particolarità che Vasari stesso cita. Allora voi forse da qui non riuscite a notarlo bene, ma se andate a Firenze a vederlo si capisce molto meglio. Questo è, passatemi anche voi che mi guarderete sul video, insomma non mi prendete in giro, ma il primo cenacolo che a me piace definire, usando una parola in questo momento molto di moda, soprattutto nel dibattito politico, transgender della storia dell'arte. Perché? Perché gli atteggiamenti sono così effeminati? Beh, forse è facile anche per voi capirlo. Non solo le donne non potevano studiare i volti maschili o i corpi maschili, ma pensate in un monastero. Quanto fosse impossibile agli uomini entrare? Quanto queste donne forse non avevano mai visto uomo in vita loro, a parte il padre o i fratelli? E quindi a far da modelle per Plautilla sono state le sue consorelle. Ed inevitabilmente questo ha portato a questa, come dire, particolare gentilezza ed eleganza di questo cenacolo. Dove Plautilla si firma, si firma qua, ed è una firma molto, anche questa abbastanza unica, perché di solito come si firmano gli artisti? Feicit, Facebat, con un grande orgoglio dell'impresa compiuta, no? Lei si firma in un angoletto, suor, sorella, Plautilla, orate però Pictora. Cioè pregate per me, insomma abbiate pietà, mi sono permesso di fare questo, però si definisce Pictora, quindi dimostrando una grande consapevolezza del suo ruolo, della sua professione. Non Badessa, non Ancella di Cristo, o qualsiasi cosa, ma pittrice. Plautilla è riuscita a fare questo anche perché pochi anni prima, appartiene alla generazione immediatamente precedente, a Bologna, e non poteva essere, se non a Bologna, che è sempre stata molto all'avanguardia nella emancipazione femminile, diciamo così, soprattutto all'università, aveva operato un'altra artista, l'unica a cui Vasari si degna di dedicare uno spazio nel suo libro, cioè Properzia De Rossi. Properzia De Rossi è una scultrice, neanche una pittrice, che diventa famosa in quel di Bologna prima di tutto per questo tipo di opere qui. Questo è uno stemma di una famiglia, la famiglia Grassi, sbalzato in argento, dove gli elementi rossi che vedete non sono delle pietre preziose, ma sono dei noccioli di pesca, che lei ha inciso con delle figurine. Talmente è successo quest'opera che le viene ordinato, gliene verranno ordinati anche altri, tra cui per esempio questa spilla, ora qui la vedete grande, ma immaginate più o meno questa grandezza, dove qui il nocciolo è diventato di ciliegia e lei ci ha inciso cento teste. Vedo, malgrado le mascherine, espressioni sorprese, ecco queste espressioni erano esattamente quelle che il pubblico e dei collezionisti bolognesi ebbe di fronte a quest'opera. Però anche qui l'incisione, lavorare sul piccolo, sul minimo, con grande delicatezza, è ancora estremamente femminile questa attività. Ma Pro Persia, ambiziosissima, bussa alla porta del cantiere più forte, più importante, più prestigioso dell'epoca a Bologna, cioè quello della cattedrale di San Petronio. E questa porta le viene aperta, le vengono lette delle fabbriciere di San Petronio, gli strumenti del mestiere per poter operare come scoltrice all'interno della basilica, dove la realizzerà, per esempio, basti rilievi come questo, che viene anche descritto da Vasari. La scena è quella della moglie di Putifarre, che si chiama solo la moglie di Putifarre, non sappiamo come si chiamasse. La moglie di Putifarre, anche queste donne, poverelle, non meritavano neanche un nome, neanche nell'Antico Testamento. Questa donna, Giuseppe, non il padre di Gesù, l'antenato, e arriva nel palazzo Putifarre da servitore, lei si innamora di lui, si invaghisce, lo seduce, lo invita in stanza, quando lui capisce che forse è meglio evitare di accettare queste avanza, lui va via e lei fa per trattenerlo. Insomma, confesso, spero che anche voi lo notiate, è una scena questa molto dinamica, molto vivace, anche, come dire, molto, passatemi il termine, michelangiolesca nella costruzione dei corpi. Cioè, Properzia è capace, è brava, è competente, ha studiato e sa perfettamente gestire l'azione all'interno di questo spazio così piccolo. Secondo Vasari è riuscito a farlo perché qui lei ci ha messo dentro tutto l'astio che aveva nei confronti del genere maschile, un po' come succederà ad Artemisia qualche decennio dopo. Vasari proprio non ci sta al fatto che appunto una donna è uscita fuori di casa e si è messa a fare l'artista. La verità è che lei è estremamente capace, infatti per questo motivo che i suoi primi detrattori sono proprio i suoi colleghi. Prudenza verrà portata al processo due volte dai suoi colleghi. La prima volta un po' se l'ha cercata, pare che abbia assalito un collega pittore che viveva accanto a lei per una questione di confini dei giardini, l'ha graffiato, l'ha picchiato e quindi finisce a processo. Il processo termina con lei che si compra pure il giardino del collega, ma insomma va bene, tanto per mettere le cose a posto. Qualche anno dopo finirà a processo per un motivo veramente infame perché i suoi colleghi artisti, tra i quali anche Amico Aspertini che testimonia contro di lei, la manderanno a processo perché lei è vittima, è concubina, cioè vive in uno stato di concubinaggio. Il concubinaggio era un reato, ma era un reato tollerato, passatemi il termine. Loro invece insistono sull'unica colpa che le potessero attribuire e la faranno condannare ad una multa perché appunto vive da concubina con un suo collega. Tornata al cantiere i frati la accolgono ma le offrono una paga molto inferiore perché la sua reputazione è stata completamente rovinata da questo processo. Lei gira i tacchi e se ne va sbattendo la porta e lì termina la carriera di Properzia. Di lei non si sente parlare più. Dieci anni dopo il Papa viene in visita a Bologna e chiede di poter conoscere Properzia de Rossi perché la fama di Properzia era giunta fino a Roma ma lei è morta da una settimana. Quindi neanche alla fine della sua vita riesce in qualche modo da recuperare il disonore che i suoi colleghi le avevano attribuito. La sua è appunto una veramente una grande avventura, una grande disavventura mi verrebbe da dire che è un po' anche per il privilegio di essere poi finita nel libro di Vasari è un po' un faro, un esempio di tante altre vite e carriere di artiste della sua epoca che però in qualche modo col senno di poi vengono equilibrate anche da carriere di grandissimo successo. Per esempio una carriera luminosissima è quella di Sofonisban Guissola. Lei non solo è autrice di autoritratti ma farà dell'autoritratto un genere della sua opera. Cioè gli autoritratti di Sofonisban diventano un oggetto del desiderio per tantissimi collezionisti. Andy Balcaro che è un trendsetter, un opinion leader nell'ambito dell'arte della sua epoca a metà del Cinquecento scriverà più volte al padre di Sofonisban a Milcari che è un collezionista, un mercante a lui che gestisce un po' la carriera di questa figlia per richiedergli un'opera, non un'opera, un autoritratto di Sofonisban. Diventa famosa per la sua innocenza, per la sua dolcezza che appunto nessun'altra donna o uomo sapeva dipingere nello stesso modo. Solo al terzo tentativo Andy Balcaro riesce a ottenere un quadro ma dopo pochi mesi gli viene richiesto indietro perché il padre ha ricevuto un ordine più importante di cui Andy Balcaro e gli chiede di restituirlo. Quindi immaginate veramente quanto desiderio, quanto grande richiesta c'era per queste opere. Il merito è non soltanto del talento di Sofonisban ma anche, vi dicevo prima, della capacità manageriale del padre, il quale padre ha una strategia precisa ogni volta che gli nasce una figlia, lei avrà quattro figlie e un figlio, perché le manda tutte e quattro a studiare presso Bernardino Campi, un pittore cremonese. Di queste quattro figlie solo Sofonisban, la primogenita, diventerà pittrice di professione. Le altre rimarranno, diciamo così, soggetti della sorella, questo è un quadro famosissimo, nel quadro nel quale Sofonisban descrive un momento di una partita a scacchi a cui stanno giocando le sue sorelline. Tre età diverse, anzi quattro, mettendoci anche la lancella, la bambinaia, quindi età diverse, ma anche tre espressioni diverse. Sofonisban fa capire fin da subito come fosse capace e sensibile nella dipingere, descrivere le emozioni dei suoi personaggi attraverso le espressioni dei volti. Fatto elemento che Leonardo all'inizio del secolo aveva posto come principale obiettivo di qualsiasi pittore, dipingere i moti dell'animo. Lei è maestra dei moti dell'animo, tanto che ad un certo punto lei, anche secondo me senza aspettarsi per quello che sarebbe successo, e lui piange. Questo disegno diventa il disegno più famoso della metà del Cinquecento in tutta Europa. È un disegno del quale noi abbiamo moltissime, centinaia di versioni dipinte da anonimi, perché diventa un banco di prova per i giovani artisti che appena entrati in una bottega vengono messi di fronte a questo disegno per copiarlo, per imparare a dipingere il pianto. Ma perché proprio questo disegno? Perché nel 1555 questo disegno era finita nelle mani di una persona, diciamo così, che l'aveva elogiato e aveva scritto una lettera al padre di Sofonisba descrivendo questo disegno come un grandissimo capolavoro. Questo personaggio si chiamava Michelangelo Buonarroti, che subito dopo il suo endorsement, oggi lo diremmo, determina la fama, uno scatto di carriera di Sofonisba. Ovviamente è anche colpa del padre, Amilcar avrà ciclostilato questa lettera, l'avrà in qualche modo messo i manifesti in giro per l'Europa, insomma ovviamente, essendo lui uno del più interessato a gestire il mercato della figlia. Tant'è che comunque, adesso non ho l'immagine, ma un'opera famosissima, il famoso ragazzo morso dal ramaro di Caravaggio è una, sapete tutto, ve l'hanno già raccontata questa storia, perché fate tutti quanti sì, è una rielaborazione del disegno di Sofonisba, che vi diceva una carriera luminosissima, verrà chiamata dal re di Spagna a diventare maestra di pittura della regina. Il re di Spagna ad un certo punto si intenerirà del fatto che questa ragazza non ha ancora marito, magari sia in età abbastanza adulta, e quindi si preoccuperà di trovarle un uomo, lei sceglierà tra i vari pretendenti un nobile siciliano, Sicilia, spagnola come sapete all'epoca, si sposerà a questo Moncada di Paternò, andrà a vivere a Palermo, e lì a Palermo, venendo a conoscenza della morte del suo maestro Bernardino Campi realizza questa opera, molto curiosa, è un omaggio al maestro Bernardino Campi, che sta dipingendo un ritratto di Sofonisba. Però se lo notate, adesso non so la definizione da lì dove siete, questo, com'è? Che dice? È più grande? Beh, è più grande perché chiaramente è un quadro, ma non è solo più grande signora. Guardi bene, è un po' un alieno perché ha tre braccia. Ha questo braccio qua che finisce nascosto dietro il corpo di Bernardino, ha questo braccio qui che finisce in questa mano, scusatemi, in questa mano piegata sotto la mano di Bernardino, e poi c'è una terza mano. Perché? Perché chiaramente Sofonisba sta dicendo che in realtà è lei che si sta autoritraendo. Quella mano che si nasconde dietro quella di Bernardino, che quasi diventa la mano di Bernardino, o guida la mano di Bernardino, è, come dire, ovviamente una descrizione di un fatto reale. Cioè, lui mi sta autoritraendo, ma in realtà sono io che sto dipingendo il quadro, ma soprattutto è l'affermazione del fatto che l'aldiva ha superato il maestro e si permette di guidargli la mano. Questo, guardate, che sono cose molto, sono fatti molto importanti nella comprensione di quanto la consapevolezza di queste ragazze evolva grazie a queste opere nel corso della storia. A Palermo realizza quest'opera, altre che sono distribuite in alcune chiese palermitane, muore suo marito, lei in un viaggio verso Genova incontra un altro uomo, è un genovese, lo sposa, si trasferisce a Genova, diventerà beniamina delle grandi famiglie genovesi, anche questo signore morirà prima di lei, insomma non si era molto fortunati a sposare Sofonisba, e lei, pensate, vivrà fino a 90 anni. Pensate che Michelangelo è il matusalemme della storia dell'arte dell'epoca, muore a 89, lei lo supera di un anno. Poco tempo prima della sua morte, due anni prima credo, lei nel frattempo è tornata a Palermo per finire la sua vita, riceve una visita di un pittore molto più giovane di lei che aveva in qualche modo preso il suo posto a Genova, un fiammingo holandese, si chiamava Anton Van Dyck. Van Dyck vuole andare a conoscere questa maestra di cui sente parlare tantissimo, ha visto opere meravigliose a Genova, la va a trovare a Palermo e racconta in una lettera l'incontro con questa donna. Un incontro abbastanza spassoso che produce anche un dipinto che noi abbiamo perché Anton Van Dyck ottiene da Sofonisba il permesso di farne un ritratto. Questa è Sofonisba, non a 92, scusami che c'è un errore, ma a 88-89 anni. Come vedete è un volto nel quale si registra perfettamente, si sente l'autorevolezza, la forza di questa donna che ne ha passate di tutti i colori. Ma la cosa più curiosa e divertente è che Anton Van Dyck descrive in questa lettera come nasce questo dipinto. È lei a dirgli come vuole essere dipinta, cioè che taglio deve avere il quadro e soprattutto con che luce vuole essere illuminata, una luce che non deve essere né troppo dall'alto né venire troppo dal basso, ma frontale il più possibile, magari davanti a una finestra. In modo tale, così stessa lei dice a quello che ci racconta Van Dyck, che le sue rughe vengano in qualche modo cancellate da questa luce così diretta. Ecco esattamente, la signora l'ha capito, Barbara D'Urso non si è inventata nulla, diciamo che già Sofonisba c'era già arrivata nel Cinquecento. Di fatto però questo, se facciamo, come dire, fede a quello che ci dice, Van Dyck ci dice che lei non ci voleva stare a togliersi di torno, cioè ancora a 89 anni, 88 anni, quello che è, si sentiva pittrice a tutti gli effetti e magari come vedete era cieca, no? Da questo sguardo si vede molto bene, insomma, all'occhio vacuo. Sofonisba è veramente un giro di boa nella storia dell'arte al femminile. È una donna che, la cui carriera non ha nulla da invidiare a quella dei grandi pittori del suo tempo, artisti del suo tempo, e anzi è molto superiore rispetto a tanti altri. È quella che, per esempio, permette anche di muoversi con molta agevolezza alla Lavinia Fontana. Anche lei si autoritrae, in questo caso si autoritrae alla spinetta vestito in modo molto elegante, perché questo è un dipinto che era destinato a quello che dal padre, Prospero Fontana, pittore, era stato scelto come suo promesso sposo, un pittore di Imola, lei a Bologna. Lei si autoritrae in primo piano, mentre suona, elegantissima, talmente capace di suonare che non ha bisogno nemmeno di leggere lo spartito, perché conosce la melodia a memoria, e guardate che cosa mette sullo sfondo. Lo vedete qua? È un cavalletto vuoto davanti alla finestra. Ora, Lavinia, da piccola, viene instradata dal padre Prospero all'attività di pittrice. È il suo mestiere, il padre ha investito su di lei perché lei porti denaro a casa, ma non è opportuno che al suo promesso sposo le si presenti come una professionista, come una lavoratrice. È una donna elegante che sa stare al posto suo, che sa suonare, è colta, può intrattenere e poi dipinge anche. In realtà poi nel contratto di matrimonio c'è scritto assolutamente che lui, il marito, deve gestire la bottega, deve preparare i colori perché è un pittore di basso livello, diciamo, di Imola, che deve in qualche modo assistere all'attività della figlia perché tutti hanno investito su di lei e deve portare denaro. Lavinia lo porterà, questo denaro è anche tantissimo, diventerà famosissima per ritratti dedicati alle dame e alle famiglie bolognesi, verrà anche lei alle orecchie dei pontefice, arriverà a Roma e a Roma le succede un fatto anche questo molto curioso che però ci dà il segno di come il ruolo di queste donne in qualche modo è quasi fondamentale nella storia dell'arte perché proprio nel periodo in cui Lavinia si trova a Roma un tal signor, don Gonzales, giunge in città. Gonzales è un uomo di Tenerife che poi diventa un gentiluomo della corte di Spagna dove ha sposato la dama più bella della corte e viene a Roma per incontrare Ulisse Aldovrandi, un naturalista, per cercare la soluzione a una malattia di cui è affetto. Gonzales soffre di ipertricosi, ha il corpo coperto di peli e ha trasferito questa malattia anche a sua figlia. Mentre sono a Roma in Tambi, Gonzales viene a sapere della presenza di Lavinia e chiede a Lavinia di realizzare un ritratto della figlia, Antonietta Gonzales. Anche questo magari è famoso, l'avete già visto da qualche parte, se non altro perché è veramente unico. Ora, Antonietta che qui ha 12 anni, perché proprio da Lavinia viene ritratta? Ora, questo che vi sto dicendo non è documentato, quindi non c'è scritto da nessuna parte, ma quindi è una libertà che mi prendo da interprete dell'epoca. In questo ritratto non c'è nulla che trasmette, che comunica questa innocenza perché a dipingerla, e vi ripeto, questa è una mia opinione, la dichiaro, perché a dipingerla è una madre di 11 figli. Sofonisba non ha avuto nessun figlio, ha sacrificato tutta la sua vita all'arte. Io non sono tra quelli che pensano che la donna per realizzarsi debba diventare madre, né all'epoca né oggi, ma certo all'epoca era più raro rimanere senza figli. Sofonisba lo ha fatto, Lavinia no, ha dimostrato che già nel 600 si potesse tranquillamente far convivere famiglia e professione e ha guardato questa ragazzina un po' come se fosse sua figlia, restituendo l'innocenza. Questo il padre aveva capito ed effettivamente poi è riuscito ad ottenere. Quindi è, come dire, di nuovo sensibilità che senza le quali certe cose non sarebbero mai state dipinte, come questo per esempio, un enorme quadro che si trova finalmente esposto alla Galleria Borghese, è stato per tanti anni nei depositi. Anche qui, guardate, è un'operazione sottilissima che fa Lavinia. È Minerva in atto di abbigliarsi. Sembra apparentemente una scena abbastanza normale, però questa non è Venere, non è Giunone, che sono sempre mezze nude. È Minerva. Minerva, noi l'abbiamo sempre vista con l'armatura. Minerva è la dea più virile dell'Olimpo. Lavinia l'ha denudata, lei si è tolta, alla fine della giornata sarà stufata, l'armatura, vedete qui, no? Si è tolta l'uniforme per vestirsi finalmente da dama. E si gira. È come se appunto Lavinia l'avesse colta in un modo di intimità. Ma Lavinia sa perfettamente che questo dipinto poteva farlo soltanto una pittrice. Un uomo sarebbe stato fulminato da Minerva prima ancora che potesse mettere mano al pennello. Chiaramente è un'operazione intellettuale, lo capite, però è prodotto proprio dal fatto che questa identità, questa conseguenza è sempre, diciamo, di secolo in secolo, di generazione in generazione, è sempre superiore. Devo accelerare un po' i tempi, mi rimangono meno di dieci minuti per fare quattro secoli, ma insomma ce la faremo. Non voglio soffermarmi tantissimo su Artemisia perché, a parte il fatto che ne troverete scritto nel libro, è sicuramente la più nota tra i nomi, però io ci tengo sempre a dire una cosa su Artemisia. Perché Artemisia è più famosa delle altre? Ecco, anche se mi sembra che siete tutti molto preparati, quindi rischio di fare una domanda, come dire, la cui risposta è non quella che mi aspetto. Quante opere di Artemisia vi vengono in mente, oltre a quella che conservate qui a Palazzo Blu. Alla fine, no? Forse vi viene in mente questa, Giuditta Loferner, la signora l'ha citato, forse vi viene in mente Susanna Ivecchioni. Poi? Prego? Quelle napoletane, però mi dica i titoli, quelle napoletane, siate più precisi, cioè non è colpa di nessuno, che meno vostra, ma la fama di Artemisia non è dovuta tanta le sue opere, è dovuta alla sua vicenda personale, che tutti conosciamo. Il cosiddetto stupro, poi io nel libro pubblico non sono il primo ovviamente a farlo, i documenti verbali del processo, insomma la storia è molto controversa, molto particolare, non voglio dilungarmi qua perché appunto ho altri artisti che voglio parlarvi, però anche questo è un fatto, cioè per conservare la memoria di un artista, donna, la nostra società si è concentrata sulla più sfigata di tutte, poverella, cioè quella che ha sofferto più di tutte, perché quello che ha subito è stata una cosa violentissima. Magari lei preferiva diventare famosa per quello che aveva dipinto, perché lei comunque ha avuto una carriera straordinaria, cioè io adesso, passatemi il termine, l'espressione, in qualche modo la violenza che lei ha subito, il processo che ne ha conseguito, il disonore che lei, non tanto Agostino Tazzi, si sono procurati, ha fatto la fortuna di Artemisia, perché da Roma, poi è andata a Firenze, è andata a Napoli, è andata a Londra, cioè si fosse sposata con Agostino come lei avrebbe voluto, sarebbe rimasta schiava a Roma, non avrebbe avuto lo stesso panorama, orizzonte ampio che poi la sua sfortuna però le ha procurato, quindi c'è da veramente rileggere le vite anche delle artiste che si conoscono molto bene. Faccio un po' un salto, vi parlo delle ultime tre artiste, perché ci sono alcune che veramente segnano dei salti di qualità. Siamo nel Settecento, a questo punto nel Settecento non sono più soltanto i pontefici, i cardinali, i nobili a determinare la carriera e il successo di un artista, sono nate, o meglio, sono proliferate le accademie. Le accademie in tutta Europa danno la patente d'artista. Angelica, austriaca, arriva a Roma, diventa una sorta di punto di riferimento culturale per la città, apre un salotto che viene visitato da tutti gli artisti e gli intellettuali del Grand Tour, per esempio Goethe che inteste una relazione platonica con lei. La sua fama diventa una fama estremamente potente, forte, supera, valli che i confini italiani, arriva fino in Inghilterra dove Angelica viene invitata a firmare l'atto di fondazione dell'accademia artistica che sarebbe diventata la più importante d'Europa, la Royal Academy of Arts. Sono due le donne a firmare questo atto di fondazione, lei e Mary Moser, una pittrice inglese dalla vita divertentissima, se avete voglia leggetevela nel libro perché è una libertina straordinaria. Quando Joseph Zoffany viene invitato a ritrarre e a dipingere l'atto di fondazione della Royal Academy of Arts, ritrae tutti i fondatori, ritrae anche le due donne, le vedete nel gruppo dei pittori? Guardate bene, perché ci sono? Sono qua, sono state ritratte su due quadri e appiccicate al muro. Perché? Cosa stanno facendo questi signori? Discutono di anatomia di fronte a due modelli nudi. Sarebbe stato disdicevole metterci quelle due donne che tra l'altro nei ritorni di tratti si guardano l'un l'altra, nemmeno guardano davanti perché magari gli occhi gli potevano cadere sull'uomo nudo. Allora firmare quell'atto di fondazione, ma bisogna comunque tenere fede e rispettare, non dico i pregiudizi, ma insomma i costumi, l'opinione, la mentalità dell'epoca che non avrebbe mai permesso una situazione diversa da questa. Quando le cose cambiano? Ecco, le cose cambiano in un modo assolutamente determinante, già un po' con la rivoluzione francese. La rivoluzione francese comincia a porsi il problema dei diritti delle donne, per le artiste che sono sempre state... ecco, ogni volta che si parla di emancipazione femminile, le artiste sono sempre delle pioniere. Cioè se c'è un nuovo diritto che le donne possono, riescono a ottenere in un'epoca storica, ecco, le artiste lo ottengono prima delle altre, sono comunque sempre in prima linea. Quindi sicuramente durante la rivoluzione francese qualcosa cambia, ma non c'è dubbio che il grande salto di qualità avviene nel Novecento con personalità come Tamara dell'Empicca. Allora, che è anche qui famosissima essendo una delle prime fan fatale, divoratrice di uomini, nel libro racconto episodi veramente esilaranti, spassosi sulle sue conquiste, su come gestisce gli uomini, anche Gabriele D'Annunzio, per esempio, è completamente perso dietro di lei e lei non si concede mai. Insomma, ecco, ci sono vari modi, momenti in cui lei si presenta donna forte, ma a me interessa come le dipinge. A me, ripeto, non mi interessano i freak, i masestrani, mi interessa quello che è il loro lavoro. Lei si autoritrae in questo famosissimo ritratto alla Bugatti, lei non ha mai avuto una Bugatti, ma era fondamentale che si ritraesse come un uomo, con una macchina che era uno stato un simbolo dell'epoca, ma guardate come riesce a riempire il quadro con la figura. Cioè non c'è sfondo, la figura diventa architettura, talmente solida, talmente piena, tridimensionale, da riempire la tela esattamente come poi farà per esempio Leger o un certo cubismo di Picasso, che guarderanno anche alla pittura così solida di Tamara de Lempicca. A un certo punto lei ha una conversione mistica, comincia a dipingere nell'ultima parte della sua carriera soltanto preti e suore. In questa badessa, guardate come lei piange delle lacrime che sono pietre, che sono perle. Cioè questa forza plastica della pittura di Tamara è secondo me il grande contributo che lei dà e che viene guardato anche dai grandi artisti della sua epoca. Un'altra che, poverella, un po' prima di essere una grande personalità accanto a quella del marito, Diego de Ribera è una grande simbolista, è una pittrice che sa perfettamente cosa vuol dire, diciamo, cos'è il movimento simbolista. Guardate come in questo autoritratto lei si autoritrae vestita dal busto che non l'ha più abbandonata, ma la sua colonna vertebrale è una colonna antica, spezzata e lei tra l'altro è trafitta dai chiodi. È un San Sebastiano che si prende sulle spalle l'eredità della storia dell'arte. Anche in modo un po' ambiziosetto se volete, però comunque c'è una maglia di simboli, di segni, di elementi che lei realizza in una parte della sua opera, perché è una pittrice profonda. Ecco, questa profondità è sempre più vera, sempre più espressa, sempre più presente nel lavoro delle donne quando poi, e chiudo con questo, nella seconda metà del Novecento il loro lavoro è un lavoro assolutamente pionieristico che anticipa quello che poi sarà il lavoro di tanti altri artisti suoi contemporanei. E mi è saltata Marina Abramovic, signori, non c'è più nel file qua, che ne so che il fine gli ho fatto fare. Eccola qua, scusatemi. Marina Abramovic, che è la sacerdotessa, mi verrebbe da dire, della body art. Quando gli artisti negli anni 60 decidono che la tela, il marmo, il ferro, il legno, hanno fatto il loro tempo, è arrivato il momento di utilizzare altri materiali per fare opere d'arte e scelgono di lavorare sul proprio corpo. Marina non è una delle tante body artiste, ma è quella che fa il lavoro più radicale. In questa foto, nel 72, in una galleria napoletana, si mette in piedi per sei ore accanto a un tavolo con 47 oggetti che il pubblico può usare su di lei. Chi le ha messo in mano una rosa? Chi l'ha un po' graffiata con delle lamette? C'è qualcuno che interge il sangue? Chi ad un certo punto prende la pistola carica che è salita su questo tavolo? Vigliacco non gliela punta lui alla fronte, ma la mette nelle mani di lei, gliela punta al collo, mettendole il dito sul grilletto, poi arriva il gallerista, prende la pistola e la getta alla finestra perché non sia mai che lei arriva veramente al limite. L'idea è quella di portare il proprio corpo al limite della sopportazione. Sperimentare il momento tra il quale il nostro corpo non può andare, ma con una grande che qui consapevolezza e cultura. Lei a un certo punto incontra questa artista, Ulai diventerà il suo compagno di vita e di opera, anche qui la storia è molto avvincente nel libro, cerco di raccontarla in un modo più appassionante possibile. Qui loro due fanno un atto di fiducia reciproca incredibile perché sono appese a questo arco, lui tiene la freccia col guanto perché se dovesse sudargli la mano la freccia sfuggirebbe e colpirebbe nel petto uccidendo Marina. In questa stanza c'è un microfono che amplifica il battito del loro cuore, per sei minuti e dodici rimangono in questa posizione che come vedete però è estremamente classica. Nel momento in cui devono parlare dell'amore, dell'atto di fiducia, della relazione uomo-donna usano un'immagine legata a Cupido, legata alla classicità, al mito dell'amore. Sono donne non solo sensibili e capaci ma anche profondamente usano la loro sensibilità per costruire qualcosa di universale. Questa è veramente l'ultima opera, a quattro minuti in ritardo sono, me ne vado subito. Un gruppo di artisti, quello con cui chiudo il libro, negli anni Ottanta del Novecento in America si costituiscono in un movimento azionista, mi verrebbe da dire, si chiamano Guerilla Girls e organizzano fondamentalmente manifestazioni, manifestazioni contro la condizione femminile nell'arte soprattutto. In questo manifesto, l'avete già letto, le donne per entrare nella Metropolitan devono necessariamente essere nude? Perché si fanno questa domanda? Meno del 4% degli artisti nelle sezioni moderne dei musei sono donne, ma il 76% dei nudi sono nudi femminili. Quindi per entrare in un museo le artiste devono essere oggetto d'arte preferibilmente nudo, da analisi che loro hanno fatto. Allora, tra l'altro loro sono tutte anonime, si mascolano con queste maschere d'aurango. Da qui dobbiamo ripartire, perché questa situazione, malgrado tutti i me too e tutti gli accusi di sessismo che oggi facciamo anche se ci sbagliamo nel nome di un oggetto, la situazione non è molto cambiata. Soprattutto, questo è l'auspicio che io mi faccio, spero che nel futuro, nell'immediato futuro, quando una donna fa un, compie un gesto importante nell'arte, ma non solo nell'arte, un'impresa memorabile, non venga nei titoli sottolineato che è una donna che lo fa per la prima volta. Se ci pensate è sempre così, per la prima volta una donna è diventata sindaca di Roma, e poi è, non so, per la prima volta una donna è diventata rettrice di un'università, data sullo spazio, non so, per la prima volta, è la prima volta che una donna fa questo. Ecco, questo è un elemento piccolo, ma che determina il nostro pregiudizio. È una donna che ha fatto una cosa straordinaria, punto, l'ha fatto per merito, punto, quella è la notizia. Non che sia per la prima volta, molte meno prime volte per le donne del nostro tempo e del futuro. Questo è l'auspicio di questo libro. Grazie. Grazie.